Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Una storica coppia di uomini e donne sembra essere in profonda crisi. Ecco il motivo del loro allontanamento.Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta Sono molte le coppie che nel mondo dello spettacolo hanno fatto sognare i telespettatori per via della loro storia d'amore, molte di queste si sono formate all'interno del programma Uomini e donne Uomini e donne, crisi di coppia per due volti molto amati.La trasmissione ha come obiettivo quello di coronare il sogno d'amore facendo conoscere a chiunque voglia la sua controparte dopo aver effettuato degli incontri sotto le telecamere vigili del programma In questo modo il tronista di turno ha la possibilità di scegliere nel corso delle puntate con quale corteggiatore fare un'uscita in esterna per valutare le proprie affinità fino ad arrivare al momento della scelta finale In questa puntata, il tronista sceglie la persona con la quale desidera cominciare una storia d'amore e di dall'altra parte il corteggiatore può rifiutare la proposta o accettare cominciando così la love story sotto i petali che cadono in studio Sono tante le coppie che si sono formate all'interno della trasmissione molte delle quali hanno messo su famiglia mentre altre non hanno resistito al tempo e sono scoppiate dopo qualche mese o addirittura anni Uomini e donne, Pietro e Rosa e la presunta crisi di coppia.Tra quelle più amate c'è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione I due si sono conosciuti quando la donna ha preso parte al programma come tronista nel 2017 e proprio in questa occasione ha conosciuto il suo futuro compagno Rosa e Pietro si sono dimostrati molto vicini nel corso degli anni, anche quando la perrotta ha preso parte alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi nel 2018 venendo eliminata in semifinale, Pietro l'ha sostenuta in ogni puntata Negli ultimi tempi i fan hanno notato che i due non pubblicano più storie insieme e che nei rispettivi post mancano i loro like, nonostante continuano a seguirsi reciprocamente su Instagram La verità riguardo la separazione.Le voci di una crisi tra e due arrivano anche da parti di Alessandro Rosica, creatore dell'account l'investigatore social che ha rivelato che tra e due pare esserci una profonda crisi di coppia Dalle sue parole pare che c'è aria di maretta tra i due ma che non sia dovuto a nessun tradimento come invece si vociferava in vita la coppia a chiarirsi e a far sognare tutti i loro fan visto che è tra le poche che è ancora rimasta assieme Uomini e donne, Pietro e Rosa e la presunta crisi di coppia.Rosa e Pietro hanno due figli Mario Achille e Domenico Ita I due dovevano sposarsi nel 2019 ma il matrimonio è saltato per via della prima gravidanza di Rosa e successivamente le nozze sono state annullate per via della pandemia Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Arrivederci, ci vediamo al prossimo video